Ben ritrovati, mentre si alternano gli scontri, gli incontri a distanza e in presenza fra candidati governatori ma anche tra candidati a consigliere regionale, il tema, uno dei grandi temi è quello della spesa infrastrutturale che la Regione Sardegna andrà a affrontare nel corso del prossimo quinquennio e non solo, si intrecciano fra loro i programmi europei, quelli del FESR, quelli infrastrutturali che il governo stesso ha messo in campo dal PNRR a tutta una serie di altre risorse ma che la stessa Regione ha programmato a livello di fondi propri. Naturalmente questo grande ammontare di finanziamenti è destinato ad andare a favore degli enti locali, non solo, naturalmente del sistema delle imprese, del sistema dei servizi ai cittadini ma anche delle infrastrutture materiali e immateriali. Sarebbe un paradiso se riuscissimo a spendere o a lavorare bene nell'interpolazione di questi interventi che possiamo magari poi vedere realizzati entro il prossimo decennio. Uso il condizionale perché il passato recente è anche un po' più lontano non ci fa dormire sogni tranquilli perché alla burocrazia, all'incapacità di comunicazione spesso fra uffici pubblici si aggiunge anche le tensioni legate alla politica, le nomine in ritardo, i vetri incrociati, tutta una serie di mancati dialoghi che mettono a rischio la spesa virtuosa di questi fondi. Allora che fare? Una delle domande decisive nel confronto fra candidati a Presidente della Regione è questa, non basta dire vogliamo spendere meglio e di più i soldi. Servono riforme strutturali e servono anche modalità operative che dovrebbero essere declinate già in campagna elettorale perché un Presidente della Regione, 40 giorni dopo il suo insediamento, è già in grado di fare una riorganizzazione che consente forse di spendere al meglio questi soldi. Dunque anche su questo noi dovremo portare la discussione fra candidati a Presidente.